Lì cosa c'è? Acqua? Lì non c'è acqua. No, lì è dove c'è lo stagno più giugato. No, allora no. No, la foto continua, non è cosa. Ah, non c'è acqua. Sempre se... E poi, ho spesso andato, sento il sole. Vedete, un vele a finire di così via l'automia. Ma chi è? Ah, tu! A chi la devi andare? Claudia. Ma chi è Claudia? La cognate. Spero entendeu la partire? Una morte. Se puoi andare. Si, io ci sono. Ah, io ti abbiamo possono salvo… abbiamo un dolore. Non sono fonte! Spero… Sto facendo… Ma… Non è sì我在… Ma Felicaneo è un�critspitch получить off camera… Il foot聊 della lingerie di Roma… Carlos Franco. Paolo parlano dellaili di Roma… Il cuore del Valle del Podspotato… Perché sono fatti di arrivere a casa! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.